La sentite questa? Questo è profumo, profumo d'America. Benvenuti a Epcot. Buongiorno signori, siamo a San Francisco. Buongiorno da Mirabilandia. Buongiorno da Milano. Bentornati, bentornati, bentornati. Prego Dio, vai. Ragazzi, benvenuti nel peggior hotel di Riccione. Non si può tenere un hotel in questa situazione qua e quindi... Ma basta bagliare. E voi direte, dove cazzo è la doccia? La doccia è... Allora, ci siamo fermati perché dobbiamo fare benzina, solo che non sappiamo né come si apre lo sportello, né come si fa benzina. Continuiamo il nostro tour senza meta. Adesso vi farò vedere la casa di Hemingway. Questo è il ventilatore di Hemingway. Quelle sono le sue frutte. Questa è la sua TV, la TV di Hemingway. E lì ci sono i suoi sforni, lì. Bene, ora ci approcciamo dentro la sua sala da pranzo. Questo è il cesso di Hemingway. Queste comunque erano le scale di Hemingway. Questo è un altro ventilatore di Hemingway. Aveva un sacco di ventilatori, Hemingway. Non ci sto io in sto tavolo. Guardi però. Occhio che ci sono i serpenti a sonaglico. E paura. Occhio lì! Dai! Se no si torna in macchina. Vaffanculo, io torno in macchina. Dai là! Probabilmente moriremo qua senza acqua, senza niente. Salutate tutta la mia famiglia e tutti quelli che mi vogliono bene. Siamo sopravvissuti al deserto. Grazie Bear Grylls. E questo è lo skyline di San Francesco. Ops, è finito il finestrino. E queste cose bianche qua sono tutte merde di gabbiano. Ma sono giganti. No, va bene, non avete idea. Cioè, se mi cagano in testa, boh, mi lavo. Sono giganti, eh, comunque. Ma non si può mettere a far terra? E se dobbiamo scappare? Ta-da! Do ecco, ma vaffan. Accendi la luce, cazzo. Buongiorno, principessa. Mi prendi un rogalic? Un po' a sain? Oh. Lo devo mettere sul piatto, se. Certo, lo neanche te. Se vanno a far farla sulla mia scarpa. Va bene, dai, vieni con me. Ah, non è andata. Ero diventata mia amica. Vuoi un sasso ancora? Stai calmo, non te l'ho lanciato. Perso per sempre. Prenda, ma ci sto giocando io. Scusi, eh. Il vecchio gioco del finto lancio del sasso. Ci sei cascata, eh. Oh, due, sì. Attenzione, questo sarà incredibile. No. Dunque, questi qua sono tutti attrezzati con i Q-Way e le scarpe da montagna incredibili. Io, amici, guardate me. switchiamo a inquadratura GoPro, eh. Si, ma metti la freccia. All'interno di questa giungla, dove si possono incontrare degli animaletti molto carini e molto simpatici. Tipo... Le rocce. Comunque adesso lo sapete Gli scimpanzè abbaiano Ma c'è un torneo di bimbi sia di calcio che di vici volley Aspettazione, ah niente Calcio d'angolo per il blu Lancio lungo per il portiere Buon controllo no? Tiro Grande Numero 10 Se ne va Soddisfatto Boh sono io c'è Adesso dobbiamo trovare l'ascensore ma immagino sia lì E basta Ma cosa suoni? E va a cadere Mi è alta Che cazzo l'ha guidata sta bici? Oh figa è alta come Giordano Oh qua c'è una curva incredibile Brava piega 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 Non pieghi Eh niente Ma cos'è un cavallo? Ah no uno skateboard Vabbè Ok proseguiamo il nostro viaggio Veramente hai il coraggio Io non ho il coraggio No no ti beccano Oddio Mi fai male Aspetta Mi fai male Mi fai male No io glielo butto No glielo devi dare con la mano Ma mi fa male C'ha gli occhiali Ecco Tieni un po' di neve Adesso sei contento Bellissimo anche questo Ma sono due Oh my god It's amazing E tu sei pesante Oh Dio canta che paura Figa Mi fai tagliare Adesso sto bambino Cicello fermo il mobile Sulla tua destra Penso di averlo risolto What? Ma non è vero Ma che cazzo dici? Giuro che l'ho risolto E vai Guadagnato No È vuota È vuota Cosa vuol dire? Uno Andiamo all'artic room Primo via First floor Architect of bed Third floor Thank you very much Thank you very much sir Nel due grazie per favore Oh Grazie Grazie mille E vorrei andare allo zero per favore Grazie Grazie Questo ascensore è molto simpatico Sono qua Amico Ti piacciono Le coccole Giochi anche No Niente Va bene Ciao Grazie Probabilmente ci lascerò le penne Le gambe Le braccia I piedi Le caviglie La testa Il collo Le spalle Il petto Sì Ok Siamo mega vicini Non possiamo sbagliare Cazzo è Ah è qua Quindi adesso dove dobbiamo Si capisce niente Non si capisce Ragazzi volevo solo dirvi Che appena sentirete I tre spari di cannone Vuol dire che inizierà la parata E da lì Inizierà anche il montage Porco Vai Andro Fai qualcosa di emozionante Sì Ma la stai studiando bene Amacco Ancora capito da che verso Ma sono Cosa sono Gelato Gelato Uno Uno No dopo Guarda domenica No l'hai tutta No l'ho toccata Si è rovinata Ti mangia presto Presto mangia Aiuto Guarda Che casino L'abbiamo trovata la tipa Però non la sta riempendo il mio Thank you Ma me ne ha messo 20 chili a me Se volete vedere un po' la gente vestita Incredibili Sì Non so da cosa sono vestiti Se Quelli hanno le collane che si illuminano Se Si scende di qua E dove si va Ah già finito Ma dai Ah quindi però si torna giù senza Adesso ho capito amici Guardatemi un attimo Ma dai Allora Praticamente Si sale senza ascensore Ma che cazzo dico Si sale con l'ascensore Si scende senza 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 Ascensore E' fuori E' lui l'insalato Ma Corco Non mi sembra male Ma che cazzo fa Esagerai anche uno di questo Ovviamente qua è tutto Il cazzo del biglietto della business E' lui che cazzo di un po' la nostra Grazie a tutti. Grazie a tutti.